Sono quattro le vittime accertate e almeno 20 dispersi nel vasto incendio scoppiato in un edificio di 14 piani a Valencia nel tardo pomeriggio di giovedì 22 febbraio. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 17.30 dall'ottavo piano per cause ancora sconosciute. A causa del forte vento e delle alte temperature si sono rapidamente propagate ed estese ad un secondo edificio nello stesso complesso residenziale dove vivono più di 300 persone. La sindaca di Valencia ha dichiarato il lutto cittadino.